Ciao amici bentornati sul canale o benvenuti se siete nuovi. Sono solita raccontare storie di luoghi infestati sparsi nel mondo ma oggi ci fermeremo in Italia, in un luogo ormai famosissimo soprattutto per gli appassionati del mondo del paranormale. Infatti quasi sicuramente vi sarà già capitato di vedere qualche video di gruppi di ricerca che hanno indagato proprio in questo ospedale o semplicemente di visitatori curiosi e appassionati di urbex. Ma vi siete mai chiesti che cosa si cela dietro questo luogo macabro? Molte sono le voci che circolano a riguardo e ancora di più sono le testimonianze di persone che si sono avventurate al suo interno riportando alla luce una storia davvero macabra. Ma come sempre prima di addentrarci nella storia assicuratevi di essere iscritti al canale e di aver attivato la campanellina delle notifiche così da restare sempre aggiornati sui miei prossimi video. Detto questo sigla e partiamo subito con la storia di oggi. In provincia di Ferrara si trova a Guscello, uno di quei paesi emiliani persi nell'immensa piattezza dell'estremità della pianura padana. Il nome probabilmente non vi suggerisce nulla, a meno che non siate appassionati di occulto e storie di fantasmi legate all'ospedale psichiatrico infantile omonimo. Arrivando ad Aguscello ci si trova di fronte un giardino dove la vegetazione ha preso il sopravvento e al centro la struttura fatiscente di tre piani con il portone d'ingresso sbarrato, nessuno imposta le finestre e il tetto in parte è crollato. All'interno dell'ex ospedale psichiatrico tutto sembra essersi fermato al 1970, anno in cui il manicomio fu frettolosamente abbandonato. Unico segno del passaggio della civiltà moderna sono i resti di riti satanici e vandalismi. La storia di questo ospedale si perde nell'Italia fascista degli anni 40 e le uniche notizie certe sono che l'ospedale in possesso della Croce Rossa a seguito della vendita fatta da Meglia Guerra, ovvero moglie dell'ultimo proprietario, la struttura venne messa in mano ad una madre superiora cattolica e trasformata in un ospedale psichiatrico per bambini utilizzata fino all'inizio degli anni 70, quando fu poi abbandonata per motivi che restano ai più ignoti. Dalle varie fonti e testimonianze su questo luogo ricostruite e riportate successivamente sul web da chi vive in quelle zone raccontano particolari macabri riguardo quella che sarebbe poi la vera storia dell'ospedale. Premetto che tutto ciò che racconterò è frutto di storie e informazioni che si trovano sul web quindi quello che ho fatto è semplicemente raccogliere più informazioni possibili metterle insieme e raccontarlo. Di conseguenza se avete altri dettagli da aggiungere alla storia che magari mi sono sfuggiti scriveteli pure qui sotto nei commenti. Ma tornando alla storia angosciante che si cela dietro questo ospedale si racconta che la madre superiora incaricata alla gestione e le sue sottoposte non erano particolarmente felici di quell'incarico dovendo avere a che fare con bambini che per ovvi motivi non obbedivano non erano tranquilli e presentavano le più svariate problematiche. Ma non solo quei bambini finivano per essere praticamente dimenticati da genitori e parenti e di conseguenza il pedagogico diveniva un luogo dove mettere il problema e liberarsene se non dimenticarsene. Ed è così che a poco a poco personaggi benestanti si avvicinarono a questo luogo di tristezza per trovare quello che per loro era un vizio. Cominciarono a pagare la madre superiora a pagarla tanto perché gli facesse avere dei bambini da usare e sfruttare a loro piacimento certi che nessuno li avrebbe mai cercati. E davvero amici fino a qui è tutto così raccapricciante e disumano e si spiegherebbe anche il perché ad oggi tutta la documentazione medica e tutte le cartelle cliniche sono spariti nel nulla come se non si dovesse sapere cosa accadesse ai piccoli pazienti tra le mura dell'ospedale. Di sofferenze e abusi che vengono confermati poi dal ritrovamento di un elettroshock. Un nome emerso dai racconti e confermato dalle rilevazioni fatte successivamente da diversi esperti nel campo paranormale eseguiti proprio sul posto è quello di Filippo Erni, un bambino affetto da disturbi psichici che avrebbe ucciso alcuni pazienti. Ma andiamo per gradi perché prima vi voglio raccontare di un vecchio tunnel sotterraneo oggi ancora visibile ma pare sia allagato che portava direttamente dall'istituto al castello degli estensi. Questo tunnel era stato costruito ai tempi della prima guerra mondiale per potersi spostare al sicuro dagli attacchi. Questo tunnel pare sia stato usato come passaggio per fare sparire alcuni dei bambini. Infatti i bambini cominciarono a sparire uno ad uno dimezzando quasi il loro numero ed è qui che ritorniamo a Filippo uno dei piccoli rimasti era proprio lui. Un bimbo di circa nove anni silenzioso tranquillo che aveva uno strano charme sugli altri. Gli altri bambini lo seguivano, gli stavano intorno e lui li faceva stare tranquilli. Questo bimbo nel suo silenzio si era reso perfettamente conto di quello che accadeva e in un certo senso si faceva carico della paura degli altri di sparire come i loro compagni. Stando al racconto un giorno parlò ma non alla madre superiore né a una suora. Parlò ai bambini che sedevano intorno a lui. Disse loro che condivideva le loro paure, che sapeva che prima o poi sarebbe successo anche a loro. Parlò e parlò ancora fino a convincerli che avrebbe potuto liberarli, che avrebbe dato loro la libertà. Fu così che salì dove c'erano le docce e in una saletta parte uno spogliatoio piuttosto basso, quasi come una mansarda. La saletta aveva panchine di legno, piastrelle verde acqua e una finestra piuttosto piccola nella parte più bassa e a livello del terreno. A quel punto gli avvicinò uno a uno alla finestra. Mostrò loro il cielo azzurro, i quattro bimbi col sorriso vennero spinti in un volo lungo cinque piani. In questo punto della storia ho trovato due versioni diverse nelle dinamiche ma che portano entrambe ad una sorte orribile. Nella prima si dice che la madre superiore accorse e quando arrivò trovò Filippo sorridente davanti alla finestra. Gli urlò ma lui ridendo in modo sadico salto giù dalla finestra. L'altra versione invece afferma che a seguito del suo gesto sarebbe stato messo in isolamento in una camera all'ultimo piano dell'ospedale. Il bambino cercò poi in mille modi di evadere da quella sorta di prigionia finché un giorno si gettò dalla finestra. C'è da aggiungere che nella prima versione ovvero quella dove anche Filippo si lascia cadere nel vuoto ho trovato altri dettagli macabri. Infatti si racconta che nel momento in cui si stava consumando la tragedia il contadino dell'appezzamento a fianco stava curando il suo terreno quando venne attirato dalle urla e vide l'orrore e la morte saltare per ben cinque volte da quella maledetta finestra. La polizia venne allertata e accorse immediatamente. bene amici a quel punto furono trovati solamente quattro cadaveri ammassati. E sì amici avete sentito bene solo quattro perché pare che quello del ragazzino dalle risate sadiche ovvero Filippo non venne più ritrovato. A quel punto il pedagogico fu chiuso in fretta e furia per evitare scandali e domande e i bambini restanti trasferiti altrove. Ma un'altra teoria più agghiacciante suggerisce che nell'ospedale successivamente sia scoppiata un'epidemia che avrebbe fatto strage tra i pazienti. Stando ai racconti pare che i corpi sono stati poi sepolti in una fossa comune e tutto il materiale medico del reparto psichiatrico sarebbe stato rimosso. Ad ogni modo il pedagogico era ormai maledetto e da quel giorno l'istituto venne avvolto da un'aura addemoniaca quasi abbia preso vita propria. Tant'è che nemmeno i bombardamenti della seconda guerra mondiale che rasero al suolo quasi tutto attorno riuscirono a scalfirlo. Ogni notte per chi vi si reca è possibile udire la risata stridente di quel bambino. La maledizione dice che chi ascolta non potrà più dimenticarla. Inoltre c'è chi sostiene di aver visto il fantasma di un bambino biondo girarsi proprio tra le stanze del manicomio. Forse potrebbe trattarsi proprio del fantasma di Filippo? Voi cosa ne pensate amici? Verità o leggenda? Ad ogni modo nella memoria storica ferrarese il nome dell'ex ospedale psichiatrico di Aguscello è purtroppo associato a un dolore profondo fatto di torture fisiche e mentali. Probabilmente tutta quella sofferenza la si può percepire girando per quei corridoi desolati. Un'atmosfera pesante che rievoca il supplizio dei piccoli pazienti che hanno avuto la sventura di essere chiusi lì dentro. C'è da aggiungere che nel terreno adiacente che è stato venduto più volte hanno provato a fare tante cose coltivazioni campi di tiro con l'arco addirittura piste da motocross ma ogni attività è durata ben poco e abbandonata a se stessa mentre il pedagogico è ancora lì in possesso di nessuno con ancora addosso la sua oscura aura. Che dire queste sono le informazioni che sono riuscite a raccogliere per cercare di ricostruire ciò che è successo all'interno di quel posto. Una storia terribile molto triste che sicuramente meritava di essere ricordata. Bene amici grazie per avermi tenuto compagnia anche oggi spero che il video vi sia piaciuto se così lasciate un like per farmelo sapere ma soprattutto scrivetemi un commento dicendomi cosa ne pensate voi di questa storia se la conoscevate già se conoscete altri dettagli o se ci siete già stati. Noi come sempre ci vediamo al prossimo appuntamento sempre qui sul mio canale con tante altre storie misteriose. Ciao!